La mattina alle 4.45, alle 5 del mattino era qui vestito elegantissimo, questo vestito molto lungo e chi alzava il vestito in segno di saluto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Mi ritorni un mito, più di quello che eri, te lo giuro, troppo, troppo! Questo era circa metà circuito e qui aveva dei meccanici che appunto con la radiolina sapevano i box quando ero transitato. Grazie per la visione!